ciao a tutti dalla vostra amare crisi e bentornati sul mio canale dopo essermi mangiato un bel semi freddo le nocciole sono tornata qui nella mia solita postazione dove inizieremo a lavorare il video di oggi è diciamo una successione ai video precedenti dedicati alle bomboniere infatti oggi vi mostrerò come confezionare le bomboniere ma non utilizzando i sacchetti come abbiamo fatto l'altra volta ma utilizzando due tipologie di scatolina quella in plexiglass che è questa qui cubica e quella in pvc che come vedete è ancora ad assemblare e vi spiegherò anche questo prima di iniziare però vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di cliccare anche sulla campanella così verrete informati ogni volta che uscirà un video nuovo soprattutto in estate che potrebbero sballare un po dipende da più o meno da quanto tempo a disposizione raccomando seguitemi soprattutto sui social e su instagram dove condivido spesso delle storie anche con Anselmino quindi lo vedrete crescere e su facebook dove invece metto anche degli avvisi speciali per esempio delle offerte che trovo su aliexpress e su amazon e su fustelle e anche fustellatrici quindi mi raccomando seguitemi trovate l'indirizzo scritto qui sotto adesso iniziamo il video come vi dicevo di solito si utilizzano due tipologie di scatolette per confezionare le bomboniere di varie grandezze e misure però due tipologie la prima è quella in plexiglass io ho preso questa come riferimento vedete è una scatolina cubica ed è a differenza di quella che vedrete dopo è molto resistente vedete in commercio questa costa di più rispetto a quella in pvc proprio per il materiale generalmente su un euro e poi c'è questa qui che se la vedete ora non ha nessuna forma ma adesso vi faccio vedere come assemblarla la vedete così sembra un progetto complicatissimo per dire come faccio a chiuderla è difficilissimo invece no è veramente molto semplice la si apre così guardate le mie mani e con le dita dobbiamo andare a schiacciare tutte le pieghe che sono ben visibili vedete come già va assumendo la forma e poi vado a schiacciare anche le alette tutte le varie parti con delle linee vuol dire che devono essere chiuse quindi anche queste alette laterali e anche questa perfetto da questa forma qui è ben visibile che questa sarà la parte superiore che andrà chiusa così e questa invece sarà la parte posteriore quindi abbasso prima queste due laterali sì poi abbasso questo e infine questa che prima vado a fare la piega e poi vado a incastrare praticamente qui sotto per bloccare le due parti così e adesso posso benissimo andare a fare la piega qui e chiudere così e così abbiamo due tipi di cubotti questo in pvc e questo in plexiglass ma adesso oltre a queste due cubiche voglio mostrarvi anche quest'altro tipo di scatoletta in pvc che non ha la forma di un cubo ma di un altro parallelepipedo ho scelto di utilizzare questa qui perché voglio farvi vedere delle varianti di chiocco quindi questa la metto un attimo da parte e andrò a farvi vedere come montare quest'altra scatola che è praticamente facilissima quindi la vedete così chiusa la prima cosa da fare è andare come poco fa a chiudere a stringere tutte le varie pieghe così questa è ancora più semplice perché basta chiudere le alette laterali e anche questa e poi andare a chiudere tutti i lati anche qui faccio la stessa cosa vedete l'abbiamo chiusa proprio in una ventina di secondi con del tool vedete ne un po rosa un po bianco e dei confetti che utilizzo solo per fare dei campioni vado a riempire le scatolette il cubotto lo farò con il tool rosa e questa la farò con il tool bianco come prima cosa vado a mettere dei confetti bianchi come ormai voi sapete vi ho fatto vedere tante volte le andiamo a chiudere e le andiamo a inserire all'interno molti mi hanno criticato perché inserisco i confetti all'interno del tool però a me sembra abbastanza igienico perché comunque è del tool comprato nei negozi dove poi acquisto i confetti è un tool esclusivamente dedicato ai confetti lo tengono in scatole sigillate quindi mi sembra abbastanza igienico prendo il tool rosa e in questa vado ad aggiungere i confetti di rosa come vedete il tool in questo caso oltre a proteggere confetti da anche un tocco di colore e anche di riempimento perché così la scatola sembra abbastanza pomposa ma adesso è arrivato il momento di scegliere quale nastrino utilizzare questo è soltanto una parte dei nastri che io non fate caso alla confusione perché utilizzandoli sempre è impossibile averli in ordine queste sono una parte perché poi ne ho bobine bobine intere solo di un colore che magari utilizzato per un matrimonio con un tema dedicato a un colore poi le ho anche di altri materiali le ho in organcio le ho in ratten quindi questi sono solo quelli in raso dunque per quanto riguarda la scatolina cubica io andrei andrei su un colore rimanendo sempre sul rosa potrei mettergli un bel violetto guardate che carino ci sta benissimo e invece sul bianco posso andare a mettere qualsiasi colore anche un bel verde mela magari voi lo vedete un po più scuro tipo verde bottiglia però vi garantisco che è un bellissimo verde mela guardate come ci sta bene e adesso vi faccio vedere due tipologie di confezioni allora partiamo da quella cubica visto che si presta a una forma che ricordi più un pacchetto natalizio andrò a creare un tipo di nodo quello classico dei pacchi di natale ovvero quello ax che è semplicissimo da fare prendiamo un bel pezzettino di nastro quando dovete farne tanti in serie prendete la misura del primo nastro se va bene andate a ritagliarvi tutti gli altri nastri in sequenza con la misura del nastro che abbiamo utilizzato come campione la prima cosa da fare è quella di andare a mettere la confezione sopra il nastro e se potete vedere abbiamo una parte più corta e una parte più lunga la parte più lunga passa sopra la parte più corta così e la teniamo ferma questa parte qui si va a incrociare con questa e poi giro il pacchetto così tenendolo abbastanza fermo nella posizione che desidero quindi in questo caso qui centrale posso mettere anche un dito per tenerlo fermo questa parte più lunga che abbiamo tenuto più lunga apposta deve andare a fare questo giro qui passa sotto lo riprendo vedete cerco di farlo più lentamente possibile e adesso lo faccio passare all'interno del nodo che abbiamo creato quindi qui dentro questo lo allento un po' e questo passa sotto e lo vado a riprendere così e a tirarlo perfetto adesso prendo i due lembi e li tiro per tenerlo ben saldo possiamo anche fargli un nodino oppure direttamente il fiocco come preferite voi come vedete il nastro è troppo lungo quindi se dovessi farne un altro prenderei la misura perfetta andrei a ritagliare la parte che è in eccesso e poi tutti gli altri li farei a campione risparmierei sul nastro successivo quindi adesso faccio un bel fiocco ok come vedete queste due parti sono troppo lunghe quindi con le forbici le vado a ritagliare vedete guardate che carino e poi visto che abbiamo usato dei colori che rimandano un po' a una nascita o a un battesimo posso andare ad applicare con un goccio di collo a caldo e qui sopra un bel sonaglino per bambini guardate che carino vedete e in un attimo abbiamo creato un campione per una bomboniera per questa scatolina come vi dicevo prima utilizzeremo questo nastro molto bello di un colore bellissimo lo faremo una scatoletta un po' più elegante facciamo finta che sia per un matrimonio utilizzando come colore del tema del matrimonio questo verde mela bellissimo quindi anche qui vado a ritagliare un pezzo di nastro e adesso vi faccio vedere questo tipo di fiocco che è particolare quindi divido il nastrino in due parti questa volta devono essere due parti perfette ok vado a creare una bella piega semplicemente così con le dita non c'è bisogno di applicare colla e lo vado a mettere così su questo bordino e con un dito lo tengo fermo questa parte di nastro deve passare sotto questo angolo così e questo rimane fermo questa parte di nastro deve fare la stessa cosa deve passare sotto questo angolo quindi così e a questo punto mi ritroverò i due lembi liberi pronti per essere incrociati quindi vado a fare un bel nodo per tenere tutte le parti ferme così e come vedete tutte le parti sono ferme il nastro non si muove e quindi potete stare tranquilli che il nastro non scapperà e anche in questo caso possiamo andare a fare un fiocchetto guardate che bellina però come vedete qui rimane tanto spazio e qui andremo ad applicare quello che sarà l'oggetto nella nostra bomboniera perché questo sì è un sacchettino una scatolina ma può diventare con un oggetto sopra una graziosissima bomboniera e se non siete soddisfatti della scatolina in pvc come materiale esiste la stessa grandezza in plexiglass soltanto che costerà di più però anche così devo dire che è molto gradevole e per decorare qui potremmo andare a mettere un cuoricino bianco in feltro messo qui al centro e con un fiorellino che ho acquistato e già fatto sempre in feltro con un peccettino di legno vedete qui al centro del fiorellino e mettere tutto così guardate che è veramente graciosissima come vedete abbiamo fatto le due scatolette in pochissimi minuti è stato facilissimo sono due tecniche diverse con due soggettini diversi perché ho voluto differenziare le tipologie di bomboniere però devo dire che sono veramente carine tutte e due spero che questo video possa essere d'aiuto anche a voi per le vostre bomboniere così imparerete delle tecniche diverse se questo video appunto vi piacerà poi penserò ad altri tipi di confezionamento di bomboniere utilizzando altri tipi di fiocchi o altri tipi di scatole per adesso io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao